Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, ancora un altro colpo ad un negozio di elettrodomestici. Stavolta hanno sfondato, come nel caso di poche ore fa, l'ingresso con un'auto e poi hanno rubato principalmente degli smartphone. Ci racconta tutto Chiara Sadotti. Sono entrati stanotte verso le 3.20, più o meno, 3.30, come praticamente è successo già ieri nell'altro negozio. Ancora un furto con una spaccata nell'aretino, questa volta a Fogliano della Chiana. Nel merino di una banda è finito nuovamente un negozio di elettronica, sempre della stessa catena. A nemmeno 24 ore di distanza dal colpo al vallone di Cortona, i ladri sono entrati nuovamente in azione, replicando di fatto l'assalto della notte precedente. In questo caso, anziché un furgone, hanno utilizzato un'auto rubata in un'officina della zona, un Mercedes, per sfondare la vetrina e la serranda. Una volta dentro si sono diretti verso gli smartphone ed altro materiale high tech. A metterli in fuga è il sistema di allarme. Nel giro di qualche minuto sono già riusciti e con un'altra macchina sono andati via, lasciando la macchina qui davanti. Non sarebbe ingente il bottino, molti invece i danni che la banda si è lasciata alle spalle. Come potete vedere c'è completamente serranda distrutta, tra l'altro una serranda molto più grande dell'altro negozio, quindi richiede il doppio del lavoro e vetri da tutte le parti. A portare avanti le indagini i carabinieri della compagnia di Cortona che stanno anche visionando le immagini delle telecamere di video sorveglianza per risalire all'identità dei componenti della banda, probabilmente gli stessi della notte precedente. Qui è una zona abbastanza bazzicata per queste cose, c'è l'autostrada qui vicino, quindi furti prendono e scappano. Dopo ti rimani un po' sempre l'ansia che possa riaccadere. La sua morte, tanto prematura, è avvenuta soltanto a due anni e mezzo di vita, era arrivata per le conseguenze riportate durante il parto. Questa in sostanza sarebbe la conclusione a cui è arrivato il medico legale incaricato dalla procura di Arezzo per l'indagine sulla morte di Caterina Succi, la figlia di Cristina Rosi e Gabriele Succi, nata e cresciuta con gravi danni neurologici subiti proprio durante il parto, mentre la madre era andata in arresto cardiaco all'ottavo mese di gravidanza. L'indagine è ancora aperta, ci sono tre medici indagati con l'accusa di omicidio colposo nei confronti proprio di Caterina Succi e di lesioni gravissime per la mamma. Alla base dell'inchiesta, le condizioni di salute proprio di Cristina Rosi, la cui gravidanza, secondo l'ipotesi degli inquirenti, sarebbe dovuta essere gestita in un altro modo, quantomeno anticipando il parto della piccola Caterina. Saranno ovviamente gli inquirenti e poi l'indagine stessa a chiarire tutto. E adesso invece parliamo dei furti che si erano verificati in Valtiberina. Avevano preso di mira principalmente delle farmacie. I responsabili sono stati scoperti. Nella notte tra il 4 e il 5 aprile avevano preso di mira due farmacie in Valtiberina, una a Monterchi e l'altra a Santa Fiora di Sansepolcro. Adesso i carabinieri sono riusciti a risalire ai responsabili che dovranno rispondere di furto e tentato furto. Nel primo caso, infatti, il colpo era stato solo tentato grazie all'intervento del titolare della farmacia, che abita nello stesso stabile, e che era stato messo in allarme dal sistema di sorveglianza. Il secondo colpo, a distanza di pochi minuti, qui per entrare nella farmacia i ladri avevano utilizzato una macchina come ariete, poi la fuga con un magro bottino. Immediate le indagini dei carabinieri, che hanno raccolto testimonianze e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, riuscendo così a risalire all'auto utilizzata dai malviventi, un BMW di colore bianco risultato noleggiato. I militari hanno poi ricostruito le tappe percorse dal SUV. I due da Milano si sarebbero diretti a sud, mettendo a segno colpi sia ad Arezzo che in Val di Chiana, nelle mire, sempre e solo farmacie. Per i due adesso è così scattata la denuncia. Torniamo sul caso del duplice femminicidio ad Arezzo. Questa sera una fiaccolata per ricordare Sara Bruschi e la madre Brunetta Ridolfi uccise con un coltello da cucina dal marito di Sara, Javad Esham, di 38 anni. I funerali si potrebbero svolgere, ancora però attendiamo una conferma ufficiale, venerdì in Duomo ad Arezzo alle 15, ma come detto non è ancora una data che possiamo dare appunto per certa. In attesa dunque dei funerali, intanto come dicevamo la fiaccolata per ricordare le due donne uccise, organizzata da Prontodonna dal quartiere di Porta del Foro, ma sostenuta da tutti i quartieri della Giostra del Saracino. Il ritrovo è fissato per questa sera alle 21, nella piazzetta delle Logge del Grano, per poi proseguire in corteo verso Porta San Lorentino. Intanto, proprio ai nostri microfoni, la Presidente di Prontodonna, Loretta Gianni, che ricorda quanto sia importante appunto affidarsi, in questi casi, ad un centro antiviolenza, oltre che ovviamente alle forze dell'ordine. Dunque, per quanto riguarda una verifica, ovviamente noi non abbiamo negli strumenti, ma neanche il titolo di verificare, quello ce l'ha, come dire, più la realtà delle forze dell'ordine. Tuttavia, quello che è importante per le donne che si rivolgono a un centro antiviolenza, che quindi già hanno fatto una telefonata dove è stato individuato che la donna è vittima di violenza di genere, perché ovviamente noi ci occupiamo solo di questo, quindi già una prima operatrice telefonica fa filtro. Nel momento in cui arriva l'appuntamento per la valutazione e la rilevazione del rischio, la donna è già inquadrata come vittima di violenza di genere, quindi la violenza maschile agita sulla donna. Come dire, la donna impaurita, titubante, che trova la forza di venire al centro antiviolenza e quindi l'importante è che trovi un ambiente che la accoglie, operatrici che la ascoltano, che le credono, perché spesso quando queste donne raccontano anche amici e parenti, conoscendo loro il maltrattante in un'immagine sociale esterna, che quasi sempre è diversa da quella che viene invece agita all'interno delle quattro mura domestiche, non credono alla donna, al racconto della donna. Per cui mano a mano che la donna trova un ambiente che, diciamo così, la predispone al racconto, poi vengono fuori via via dei dettagli, a volte anche inquietanti. Non sempre al primo incontro emerge un quadro netto. Infatti abbiamo bisogno spesso anche di un paio, tre incontri per fare la valutazione del rischio. Questo strumento per noi è fondamentale perché ci permette intanto di esplicitare il livello di rischio alto, medio o basso che la donna sta correndo e spesso di cui non è consapevole. Per cui, ecco, individuando per esempio una situazione ad alto rischio, proponiamo immediatamente tutta una serie di strumenti di protezione perché in un alto rischio quello che dobbiamo agire è la protezione della donna. In un medio o basso rischio possiamo fare, diciamo così, anche una strategia assieme alla donna, ovviamente, attraverso il percorso di uscita dalla violenza, di intraprendere questo percorso consapevolmente mettendo in atto sempre degli strumenti di protezione, ma in un caso di alto rischio dobbiamo valutare se è necessario, per esempio, l'ingresso in casa rifugio perché non ci sono al momento situazioni che garantiscano poi l'incolumità della donna. Facendomi una fantasia, se Sara si fosse presentata alla nostra associazione nei giorni precedenti, quello che è accaduto, sicuramente avremmo rilevato un alto rischio e avremmo messo attraverso, diciamo così, la rete antiviolenza in atto, proposto, quantomeno, proposto, tutta una serie di soluzioni per evitare appunto che lei rimanesse sola. Per quanto sola non era, era con sua madre, tuttavia questo non è bastato perché è stata tolta la vita anche alla madre. Angela Lauretta, il nuovo vicario del questore di Arezzo, a darne notizia sono i vertici della polizia di Stato Aretina che proprio in questi giorni ha accolto la nuova dirigente nata a Siracusa. Nel suo percorso professionale ha ricoperto prestigiosi incarichi tra i quali la dirigenza del commissariato di Pacchino, la vice dirigenza della squadra mobile di Siracusa, dal 2006 al 2014 a Roma, la responsabilità delle sezioni antidroga e contrasto alle organizzazioni dedite al traffico di migranti. Siamo alla cronaca sindacale perché è stato proclamato lo stato di agitazione da parte dei lavoratori dello stabilimento Fimera di Terranova Bracciolini. Le organizzazioni sindacali, la RSU, il comune di Terranova e la regione toscana, si legge in una nota, sono fortemente preoccupati dello stallo nel quale versa ormai da troppo tempo questa vertenza e chiedono all'azienda che venga ufficializzata nelle prossime ore e confermata ovviamente la presenza di un soggetto interessato appunto allo stabilimento. Intanto da oggi i lavoratori sono in stato di agitazione permanente. È stata convocata un'assemblea pubblica per venerdì 21 aprile mentre per il 26 di aprile è già stato fissato un incontro proprio con il management dell'azienda. Arezzo fa i propri patti educativi di comunità tra gli obiettivi scuole aperte nel pomeriggio e in estate punti attivi di cittadinanza attraverso un approccio partecipativo condiviso con il volontariato e con il terzo settore. Il servizio. Scuole aperte anche il pomeriggio e animate nel pomeriggio accanto e dopo le lezioni ordinarie di esperienze di cultura di formazione di doposcuola di incontri per i genitori. L'idea è quella di fare in modo che la scuola diventi un luogo dove non si sospendono mai le attività ma si moltiplichino grazie alla presenza certamente del mondo della scuola ma ancora di più affiancandolo con quello del terzo settore. È con questo obiettivo che la fondazione Arezzo Comunità e i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e del convitto nazionale del comune di Arezzo hanno siglato l'accordo che dà il via alla progettazione legata ai patti educativi di comunità. Perché si possa strutturare in maniera ordinata ma soprattutto in maniera istituzionale quello che già le scuole fanno cioè quello di essere dei punti di comunità e di educazione civica aperti il più possibile dove le famiglie i ragazzi le associazioni possano costruire percorsi formativi ma non solo anche culturali anche aggregativi oltre l'orario scolastico questa è una grande innovazione che ha voluto il ministro Bianchi dopo il covid e che noi abbiamo colto abbastanza velocemente per far sì che le scuole potessero diventare levi di cittadinanza. Sarà così strutturato un calendario di attività in collaborazione con le associazioni del territorio in modo che i piani educativi e didattici si integrino attivamente con i valori del volontariato del senso civico e dell'essere comunità. L'altro giorno abbiamo avuto un consiglio comunale aperto sul disagio giovanile a me non piace neanche chiamarlo disagio perché i giovani hanno sempre avuto momenti di difficoltà e di criticità che fanno parte della crescita da sempre da quando la storia è storia si risponde a questo disagio che si concretizza in questo momento storico nell'isolamento che si fa a volte violenza a volte dispersione attraverso una rete fatta di azioni concrete non di burocrazia che dia risposte e opportunità. Entusiasta dell'esperienza che ho vissuto e che continuo a vivere facendo parte di questo gruppo di lavoro a parlare è Chiara Bernardini la giovane originaria dell'Aretino in particolar modo di Castiglion Fiorentino che fa parte del team di Elon Musk per dei progetti aereo-spaziali proprio in questi giorni infatti è partecipato al lancio della navetta spaziale Starship in particolare Chiara si trovava nella postazione di controllo del lancio del razzo Space X Mi congratulo con la giovane concittadina dice il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli prima di arrivare però su Marte la aspettiamo qui nella Val di Chio Ci spostiamo adesso invece a San Giovanni Valdarno per il bilancio del comune In estrema sintesi un bilancio che pur in un periodo e in un contesto che è il quarto anno di bilancio che deriva da due anni di pandemia e poi un'incertezza finanziaria assoluta derivante dalla guerra comunque vede una stabilità nei nostri conti anzi un aumento progressivo delle entrate per investimenti che sono passate progressivamente da un milione quello che era nel 2020 a quest'anno 15 milioni che si trasformeranno in 24 milioni nel 2024 E l'assessore Paola Romei assieme al sindaco Valentina Vadi ad illustrare il bilancio annuale di previsione di San Giovanni Valdarno e l'aggiornamento al DUP il documento unico di programmazione 2023-2025 approvati nel Consiglio Comunale dello scorso 7 marzo Sulla parte corrente manteniamo comunque 17 milioni di servizi che andremo a derogare ai cittadini in costanza di quelle che era anche il bilancio del 2022 ma ci aspettiamo di poter migliorare questa entrata e quindi la possibilità di spesa grazie a un'azione che stiamo facendo di recupero dell'evasione altro aspetto molto importante sul quale stiamo realizzando i progetti per la digitalizzazione anche qui sono stati intercettati fondi anche in ambito PNRR e ci sono tutta una serie di progetti che ci consentiranno di spostare la buona parte dei servizi erogati ai cittadini sul digitale e anche poi di intervenire per facilitare l'accesso a questi servizi da parte in particolare delle generazioni chiamiamole non native digitali è convocato dal sindacato club confederazione unitaria di base per venerdì 21 aprile uno sciopero generale di tutto il personale sanitario in relazione all'adesione degli operatori l'ASL Toscana Sud-Est comunica che potrebbero verificarsi delle variazioni al normale il svolgimento dei servizi al pubblico l'azienda spiega in una nota si scusa per eventuali disagi e ricorda che restano garantiti i servizi essenziali di emergenza urgenza rimaniamo in tema sanitario perché parte proprio da domani una settimana di informazione e prevenzione riguardo la patologia della diabete dedicata specificatamente alle donne diabete donna parte una settimana di informazioni e anche di prevenzione come dove e perché si comincerà domani dall'auditorium dell'ospedale dove ci saranno una serie di interventi di medici che parleranno di diete di comportamenti e poi soprattutto di prevenzione credo ecco il diabete avete verificato che colpisce le donne in una maniera particolare in una certa fascia di età si specialmente il diabete alimentare colpisce spesso le donne di più le donne anche se ormai è diffuso anche tra gli uomini e poi soprattutto una cosa questa settimana dedicata alle donne bollino rosa si chiama da parte della ASL sud-est sarà dedicata anche ad altre patologie ci saranno degli interventi gratuiti a favore delle donne soprattutto perché in alcuni casi sembra che la donna non acceda in modo volontario all'ospedale e perciò questo invece sicuramente abbiamo scoperto anche per altre patologie che stanno aumentando il fatto della prevenzione è assolutamente eccezionale poiché il covid abbia interrotto una serie di situazioni normali questo lo sappiamo tutti però insomma è bene ritornare alla normalità sotto il profilo degli ambulatori di diabetologia insomma tutti i servizi che sono dedicati comunque a chi ha già una diagnosi di diabete siamo tornati alla normalità o ci sono ancora dei servizi da riprendere? Purtroppo c'è un problema grandissimo ed è quello dell'aumento del numero di coloro che possiedono purtroppo questa malattia e poi soprattutto c'è da dire una cosa il centro di Arezzo è diventato uno dei centri più importanti d'Italia ed essendo uno dei centri più importanti d'Italia specialmente per quanto riguarda la mancanza di amputazioni per il piede diabetico femminile maschile e questo qui porta moltissimi pazienti anche da altre parti e questo naturalmente fa molto piacere alla ASL di Arezzo però pone i medici in gravi difficoltà perché insomma ricordiamoci una cosa che riescono in grosso modo 3.600 visite al mese insomma diventano pesanti Sarà decisamente una domenica dedicata anche questa alla salute quella organizzata dai Lions il servizio Domenica in salute con l'iniziativa Lions in piazza l'appuntamento è per il 23 aprile in piazza Sant'Agostino per una giornata di promozione alla prevenzione sanitaria dedicata a tutta la città oltre all'Arezzo mecenate di cui faccio parte ci sarà l'Arezzo Crimera e il Leo Club che sono i giovani del Lions offriremo screening medici per pediatria cardiovascolare diabete e avremo anche un veterinario che si occuperà dei nostri amici a quattro zampe siamo attrezzati per dare assistenza e utilizzare tutti i medici e i mezzi che la comunità ci ha messo a disposizione ci saranno mezzi della Croce Bianca della Croce Rossa e della Misericordia e anche di Sapra noi teniamo molto a promuovere la prevenzione che anche in base all'articolo 32 della Costituzione che sancisce il diritto per ogni cittadino alla salute riteniamo che oltre che andare a vantaggio della singola persona del singolo individuo una diagnosi preventiva di una malattia abbia una ricaduta sull'intera collettività implicando una drastica diminuzione dei costi per la cura necessaria Un grave lutto ha colpito il Comune di Arezzo e la sua amministrazione mancata oggi dopo una lunga malattia Cecilia Agostini da anni in servizio presso lente dove ha ricoperto diverse mansioni in particolare era diventata un punto di riferimento nei settori della comunicazione e del welfare educazione e servizi al cittadino in questa area era stata nominata dirigente con incarico di Vice Segretario Generale al marito e alle figlie va il nostro più affettuoso abbraccio scrive il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli condoglianze alle quali si unisce anche la nostra redazione Siamo infine ad una notizia di sport ottimi risultati sportivi e sociali per la All Stars Ollus Arezzo ai Play the Games il più importante evento interregionale del circuito special Olympics una delegazione con 28 atleti aretini ha vissuto in una trasferta a salzo maggiore proprio per mettersi alla prova con gli avversari del resto della penisola la squadra aretina ha chiuso i Play the Games al secondo posto arrendendosi solo nella finalissima contro i rigoli dell'ASD viceversa di Albenga complimenti dunque alla compagine aretina è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortesi e attenzione arrivederci